Partita da due volti al Vigor Sporting Center, prima frazione in cui la Ranova annienta la Vigor per Conti, mentre nella ripresa e Blaugrana, complice anche l'evidente calo degli ospiti, sfiorano una clamorosa rimonta. Vigna si affida al tridente magico La Ruffa Giurato Fagioli, Bellinati risponde con un ordinato 4-2-3-1 con decrescenza a supporto di Damiani. La Ranova si fa preferire fin dai primi attimi e al dodicesimo passa, Fagioli show sulla sinistra, accelerazione, dribbling e tiro vincente per 1-0 ospite. Solo rosso-blu in campo e 10 minuti più tardi ecco lo 0-2, tapin vincente di Giurato al termine di un'azione insistita nata ancora da Fagioli, tutto troppo facile per i Vigna Boys. Al ventottesimo gli ospiti calano il tris, azione fotocopia dello 0-1 con stesso esito, Fagioli firma la doppietta personale e manda in visibilio il settore ospiti. Sprazi di vigore al trentatreesimo, ma Damiani si fa ammurare da Zonfrilli da ottima posizione. Al trentottesimo arriva il bellissimo poker della Ranova, Fagioli trivela per il colpo di asta chirurgico di Giurato che chiude i giochi, Vigor non pervenuta. Seconda frazione in cui i padroni di casa cambiano atteggiamento fin da subito. Al secondo taglia a bue sprega malamente a 2x2 con Zonfrilli, segnale di pericolo non colto dalla Ranova. La Vigor cresce sempre più e al ventiseiesimo trova il meritato gol con la conclusione vincente di Russo. Il 19 trova la doppietta personale 4 minuti dopo con una staffilata all'incrocio di gran bellezza. Taglia a bue al trentanovesimo riaccende le speranze blaugrana, ma ormai è tardi. Al triplice fischio gli uomini di Vinga festeggiano con i propri tifosi un successo preziosissimo, Vigor chiamata a ripartire dalla bella reazione del secondo tempo.